TMV SPA dal 1961 è specializzata nelle lavorazioni meccaniche di componentistica in varie leghe di alluminio, prodotti necessari in molti settori della meccanica di precisione. Nel corso degli anni abbiamo implementato le tecnologie di lavorazione, i macchinari e la loro automazione, oltre alla costruzione interna di una particolare tipologia di utensili parte integrante del know-how aziendale con continua attenzione all'aggiornamento e l'innovazione. Seguendo questa filosofia nel 2011 abbiamo acquisito un'importante realtà produttiva che ci ha permesso di integrare i processi produttivi di pressofusione e la costruzione dei relativi stampi, la fusione in bassa pressione e gravità, il trattamento termico e la verniciatura a polvere, tutto questo con l'obiettivo di fornire un processo verticalizzato dall'alluminio liquido alla realizzazione del componente secondo le specifiche richieste pronto per essere assemblato nelle linee di montaggio del cliente.